Prima di andare avanti però, voglio dedicare un po' di tempo al nostro amico e sponsor NordVPN. Protegge non solo il laptop o il computer di casa, ma anche smartphone e tablet. È essenziale per chi viaggio e è in vacanza. È molto più di una semplice VPN perché blocca pubblicità e siti pericolosi, avvisi sul dark web. Con un unico abbonamento avete fino a 10 dispositivi protetti. Passiamo ora all'offerta del periodo che si chiama Chi trova un amico lo protegge. Dal 14 agosto all'11 settembre chi acquista un piano biennale tramite il link riceverà 4 mesi extra di abbonamento per se stesso, 6 mesi gratis di NordVPN da regalare a chiunque desideri. A posto. Grazie mille NordVPN, punto escalativo, VPN. E rieccoci qui insieme a un collezionista di monete che ho faticato un po' a trovare. Per fortuna l'ho trovato qui vicino perché... A Peccioli. A Peccioli, che tra l'altro è uno dei borghi più belli della Toscana. Vi invitiamo a... Ora magari per chi ci fa un po' cà, però è bello. No, 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 no. T'ho visto un po' sconsolato. No, 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 no. No, 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 ok. Poi hai visto che ora ci sono i giganti di Peccioli. Sì, ero per quello che ero sconsolato. Perché ti fanno cacare i giganti? Sì, i giganti. Poi poi la gestione, ma insomma ora entriamo Napolitia. Ma è Napolitia. I Peccioli. Però insomma, l'ho trovato e quando mi ha fatto vedere la sua collezione ho deciso di invitarlo perché è veramente bella e ci permette di fare anche un escursus storico molto importante attraverso le monete che ha. Allora, innanzitutto vi faccio la classica domanda. Quando hai iniziato a collezionare? Perché ti sei appassionato proprio alle monete? E perché proprio alle monete antiche, ecco? Allora, in verità hai iniziato un po'... Allora, intanto per gioco con le monete che avevo in casa già da bambino. Ok. Io facevo gli scout, c'era la specialità di numismatico e quindi ho incominciato. Poi l'ho messa da parte. Poi all'età di 14 anni, quando si scazza, insomma, così, con i miei amici trovai un forum dove c'era tutta questa gente che postava queste monete di 200.000 euro. E quindi si entrò lì sostanzialmente per prendere per il culo questi che mettevano queste... E invece poi mi sono appassionato un sacco perché dietro alle monete ci sono 10.000 aspetti attraverso cui uno può conoscere la storia. Poi a 16 anni, con soldi che mettevo da parte dalle merende, eccetera, ho comprato la prima moneta medievale che tra l'altro è qui da qualche parte. Zoomiamo per bene. Eccola qua. Vedi come si vede bene così? Allora, ora è tipo al contrario. Infatti questa... No, no, al contrario nel senso... Così? Così, bravissimo. Ah, infatti c'è un... Un vescovo. Un vescovo, ok. Sì, perché è il vescovo di Volterra, appunto. È una moneta bruttina, però sono monete rarissime, abbastanza rare. E quindi per un ragazzo di 16 anni, insomma, era già uno sforzo abbastanza importante. E queste sono le monete, appunto, io sto a Peccioli, quindi Volterra è la città più vicina, era la moneta, appunto, poi io mi appassionai all'inizio alle monete medievali. Quanto la pagaste ai tempi? Sembra 180 euro, 160 sul carterino, vedrai che ho scritto. Sì, 160 euro. E quanti anni ha sul groppone sta moneta? Questa è una moneta del XIII secolo. Madonna. Quindi siamo alla fine del 200 e il vescovo che c'è sopra, fra l'altro, sono un unicum perché, appunto, i vescovi avevano una prerogativa comitale, cioè erano anche conti, oltre che i vescovi avevano dei ruoli per conto dell'imperatore. E ora poi vi racconterò un po', ma la moneta, appunto, è un privilegio, una regalia, cioè è una cosa che spetta all'imperatore e che l'imperatore concede. E' una regalia molto importante perché, intanto, la moneta, anzi, entriamo proprio nel vivo, la moneta è, in qualche maniera, ha senso, in base al diritto, infatti, numismatica, come nomos, in greco vuol dire sia moneta che legge. Perché la moneta ha un valore legale, oltre al valore suo, sì, è fatta da argento, eccetera, però noi spendiamo la moneta per quello che una legge impone come valore, ok? Se noi abbiamo una moneta da 3 euro, e anche fosse fatta da argento e ne valesse 4, o ne valesse 2, o niente, praticamente come ora, noi comunque la spendiamo per 2 euro e il commerciante è obbligato a accettarla. Quindi, perché succede questo? Perché l'autorità emittente, si chiama, gli conferisce un valore e la gente glielo riconosce in virtù della credibilità che ha. Quindi, appunto, se un'autorità fa moneta in maniera non tanto trasparente, poi le sue monete non circolano più. Ok. Infatti, allora, le monete sono nate in Lidia, che è una zona dell'Asia, insomma, Medio Oriente, però in Italia appaiono con le monete fuse, appare con le monete fuse. Madonna, questa non sembra nemmeno una moneta. Cioè, praticamente, cosa succede? La gente incomincia a chiedersi come portare in giro del valore. Cioè, perché il valore poi si può misurare, eccetera, tutte le cose hanno valore, tutte le merci. Però, ci vuole una merce che abbia determinate caratteristiche. Primo, che sia trasportabile, perché se io ho valore in una pecora e devo andare in Africa, mi devo portare la pevola dietro, ok? Questa è che tu abbia detto una delle frasi più toscane del mondo, una pevola in Africa. Bellissimo. Poi, l'altra cosa è la divisibilità, perché se con una pecora ci si comprano due tavoli e io voglio un tavolo solo, la pecora la devo tagliare nel mezzo. Però, a quel punto non è più una pecora viva, quindi modifico il valore. E poi, ci sono dei costi per gestire una pecora, perché devo da mangiare, se no muore e comunque la devo stoccare. No, no, le tiene qua, ragazzi, le monete, non temete. Tutte belline, catalogate. Quindi, il modo migliore per conservarlo è il metallo, ok? E a un certo punto cosa succede? Si passa da una prima forma monetale che si chiama AES RUDE. Cioè, viene buttato il metallo in terra, questo prendono in forme e si pesa ogni volta che c'è una transazione. Ok. Poi viene fuori il problema, cioè, io un posto sta a pesare il metallo ogni volta che c'è una transazione. E quindi, ci si mettono sopra dei segni di valore, tipo questo. Però, questo è già un AES Signatum, si chiama. E questo è già un... scusate, un AES grave. L'AES Signatum è quello che si ottiene solo con i segni. Invece, poi a un certo punto ci si chiede, sì, ma qui ci sono dei segni, ma chi è che mi garantisce che qui dentro c'è TOT Metall o della TOT Qualità? Allora, appunto, si arriva all'AES grave, quindi, in cui l'autorità imprime un segno, un sigillo, come in questo caso è una clava, che si vede un po' male, perché comunque questa è una moneta di terzo secolo avanti Cristo. Quindi, insomma, ha qualche anno sulle spalle, con cui l'autorità garantisce che la moneta ha quel valore e che dentro c'è quel metallo di quella qualità. Prima si parla di forme monetali, da qui in poi si parla di moneta. Quindi è proprio l'autorità e la legge che conferiscano alla moneta il valore di moneta, ecco. Bellissimo, ma a me la cosa che piace di più è, sono i due puntini, cioè hai un primo numero per farti capire quanto... Esatto, perché c'erano ovviamente più grandi e più piccole. Le monete fuse diventano anche di 40 mm, 60 mm, quindi sono monetone, pezzi, addirittura panetti di 20 cm, anche con tutti dei segni che servivano, perché poi li tagliavano. Questo ancora è nel Medioevo e si squartavano le monete per fare quattro divisionali, per esempio. Ok, molto figa. È Etruria questa, vedo. Sì, Etruria. Diciamo che questa non è una zecca identificata, perché mentre, per esempio, Volterra ci ha scritto velatri, oppure delle aree si riconosce perché, per esempio, tutte le monete, quindi le polis, ecco, così avevano dei simboli. Per esempio, Ancona, Ancon in greco di braccio, quindi sulle monete di Ancona ci ha disegnato un braccio. Bellissimo. Oppure Rodi, che in greco vuol dire Rodon rosa, quindi ci ha disegnata una rosa, per cui, appunto, per esempio questa. Questa qui? Questa qui, che è un Nomos di Taranto. Taranto il... Costo? È al contrario. Ok. No, no, è su quella... Sbaglio sempre. Vedi che c'è il Taras, che è, appunto, il fondatore di Taranto, che è su questo delfino, appunto, e è il simbolo della città che viene riportato sulla moneta. Come, peraltro, questa è famosa, per esempio, Atene, e c'è la civetta. Aspetta, che faccio vedere anche dietro, che è bellissimo. Sono sempre scene mitiche. Questo è bellissimo. Questo qui, per esempio, è un tipo, si dice immobilizzato, cioè, come quando uno vuole inserirsi in un'area monetale che esiste di già, si imita dei segni che ci sono sulla moneta preesistente, in modo che gli spenditori la accettano più facilmente, un po' come facciamo noi con gli euro. Questa è una tetradramma di Atene, invece, vedete che c'è la civetta e questo si ritrova anche sugli euro attuali di Atene. Ah, ecco dove l'ho già vista, sta civetta. O forse l'ho vista anche in una collezione in edicola che... Può darsi. Con le rivoluzioni. Questa è una delle monete più iconiche. Dietro c'è la Dea Atene, vedete? Bellissimo. E poi di là la civetta. E queste, per esempio, sono fra le prime monete, non è la serie più arcaica di Atene, però, insomma, sono le monete più importanti della Grecia e, fra l'altro, qui c'è una storia bellissima, no? Perché gli Atenesi a un tratto scoprono dei giacimenti sul monte Laurion e decidono che se li vogliono dividere questi soldi, no? Dicano all'argento ci si divide fra tutti. Invece viene temito, Cle che era un politico dell'epoca, fa una ringa spettacolare nella Gorà, dove dice, ma se noi, invece di dividerci questo argento, si usa per costruire la flotta navale, tanto ci rientra uguale a noi perché si lavora noi poi alle navi, però ci sarà la flotta navale. E infatti, pochi anni dopo, si salveranno dai persiani, Serse Primo, eccetera, le guerre che tutti conoscete, proprio grazie alla flotta costruita con l'argento dell'Aurion. Bellissimo. E quindi, sì, sì, poi tutte le monete ci hanno detto. E la tecnica, perché vedo che sembra proprio pressato con qualcosa, era un pezzo di metallo che poi è stato... Sì, allora, il conio generalmente, poi ci sono vari tipi di coni, però la forma del conio principale è questa, c'è una base che si chiama conio d'incudine oppure pila, che è un pezzo di ferro che viene fermata su un ceppo di legno. Ok. E lì viene inciso il dritto, si chiama, cioè il lato più importante della moneta, perché è quello meno sottoposto a sollecitazioni, il conio di sotto, e quindi si rompe meno facilmente. Ok. Sopra c'è un altro pezzo, si chiama torcello, che generalmente l'operatore lo tiene in mano, oppure ci sono vari... Sì, torcello, sembra un... sei un torcello. Sì, sì, vero, è una storia del genere. E quello poi ci si picca sopra e la moneta, appunto, rimane impresso, il segno della moneta. Poi, ovviamente, Newton in Inghilterra scopre, inventa il torchio, quindi dopo c'è un'evoluzione, chiaramente, ma poi anche in antichità, perché alcune monete, le secche più avanzate, per esempio, volevano che il dritto rispetto al rovescio avesse una determinata inclinazione, quindi c'erano tutte delle tecnologie che permettevano questo. E allora, quindi è il torcello che ha impresso questo gufo? Allora, qui sicuramente sì, perché... Ok. Allora, e qui tecnologicamente, vedete che la moneta è molto spessa, se gli fa vedere lo spesso... Boia, ma vabbè, io l'ho fatto di prima, assurdo, sembra un tappo di uno spumante, non so... Perché mentre proprio avanti i tondelli vengono ottenuti dalle lamine, questi si faceva gocciolare l'argento, che quindi formava una sorta di pallina... Bellissimo. E poi si picchiava, sì. E ti faccio magari una domanda a studio, si trovano ancora dei torselli con, diciamo, il negativo di quello che andiamo a stappare? Allora, sono ovviamente cose rarissime. Sanno nei musei, penso. Sono anche in collezioni private. Allora, tu che si trova anche in collezioni private, eh, io, per esempio, colleziono anche un po' di quadri, stato dal 200 al 500. Ah, sì, per buttarle dentro, ci stanno, certo. Però, ecco, si trovano, chiaramente bisogna pagarle anche tanto, i coni sono rarissimi, generalmente si trovano dove? O nelle piccole secche, per esempio Massa Marittima, ce ne sono tanti in giro per i musei, perché è una secca piccolissima, aperta in condizioni di, insomma, un po' borderline. Questi coni poi vengono messi da parte nell'intento di riusarli e poi rimangono nella biblioteca civica e vengono trasmessi, se no, generalmente vengono distrutti. Oppure, coni da campo, per esempio, durante le guerre c'erano delle zecche itineranti, per esempio, qui ci sono... Delle zecche itineranti? Sì, per esempio, questi qui sono due monete battute durante la guerra civile romana. Quindi vedete, da una parte, questa a sinistra, sbaglio sempre a sinistra e a destra, questa a sinistra... Cioè, ti riordi qualsiasi cosa, il torsello, l'anno, le guerre... Il bello è che sono dal tonico e mi sbaglio di sinistra e di sinistra e di sinistra. Anche te sei dal tonico. Un dramma. Veramente. Comunque, questa a sinistra, praticamente, è battuta da brutto incassi. Sì, ma è facilissimo di darsi la destra. Sì, perché poi guarda la mano, però devo fare il passaggio di... Non per quello, ma se pensi al saluto particolare, è quello sempre a destra. Sì, ma vabbè, insomma, io cerco di non pensarci a queste cose. Eh, nemmeno io, però oggi, oggi in particolare, vabbè, andiamo avanti. Allora, dicevo, quella a sinistra è brutto incassi e quella a destra, vedete che è Ottaviano Augusto e dall'altro lato c'è Marcantonio. Non so chi si riorda la battaglia di Filippi, per esempio, riminiscenze dalle elementari. Ciao a tutti, se la ricordi, sicuramente. Però, a un certo punto, moglie Giulio Cesare, perché durante le idi di marzo, Bruto, Cassio e altri congiurati l'ammazzano a coltellate, Marcantonio, che è questo vi proprio, sulla moneta, lo fermano fuori a parlare, che è più fidato di Giulio Cesare, e lui entra dentro e l'ammazzano. A un certo punto fanno una ringa bellissima a Marcantonio, dove dice siamo rimasti senza padre, eccetera, gli altri volevano restaurare la democrazia, quindi si forma un fronte dei democratici e l'altro, questo qui, quelli che poi formeranno l'impero. E poi viene fuori che quest'altro, invece, quello che facevi vedere ora, che è Ottaviano, no no, questo vi, sull'altro lato, Ottaviano, Cesare a sorpresa l'ha nominato, cioè l'ha preso come figlio, e quindi Marcantonio e Ottaviano si uniscano in un primo momento contro i repubblicani, fanno una guerra sanguinosissima contro romani contro romani, cugini contro cugini, e poi alla fine Bruto e Cassio perdono questa battaglia a Filippi importantissima, e Marcantonio e Ottaviano si mettono insieme, e poi cominciano a fare la guerra anche fra di loro, infatti poi Ottaviano sarà il primo imperatore, Marcantonio invece va da Cleopatra, e poi moriranno tutti e due, chiaramente, e insomma, l'epilogo poi è l'impero romano, ecco. E parlando sempre di... E queste sono sempre, vedo, 41 e 42 avanti Cristo. Sì, e queste per esempio sono battute in campo per pagare l'esercito, ci sono dei simboli, per esempio, qui ci sono dei simboli appunto, non so se si vede... La voglia, aspetta, vai, eccolo. Sono dei simboli, sì, è una sorta di arpa, sì, ma comunque erano i simboli di questi repubblicani, di questi democratici, e quindi è interessantissimo. Poi dopo, appunto, perché la moneta è un mezzo eccezionale, prima dell'invenzione del giornale, per propagare dei contenuti, no? Ecco, questo me l'avevi detto anche quando abbiamo parlato in privato, ed è la cosa più interessante. Per esempio qui, quando loro cercano di accreditarsi presso il popolo, che mezzi ce l'hanno con Marco Antonio, mezzi ce l'hanno con Augusto, cominciano a coniare delle monete, dove ciascuno dei due scrive che è figlio del divo Cesare, perché appunto cercano di tirarsi dalla loro parte, ovviamente, l'impero. Oppure, per esempio, questo è un denaro, sempre, di un magistrato, perché nella Repubblica Romana il magistrato a cui veniva affidata la zecca erano generalmente i rampoli delle famiglie più importanti, era la prima magistratura in cui li buttavano, e si chiamavano tres vires monetales, cioè i tre signori della moneta, uno faceva l'argento, uno faceva il bronzo e uno faceva l'oro. E ciascuno sulla moneta rappresentava una cosa che richiamava la propria storia familiare, che esaltava le proprie origini. In questo caso, per esempio, questo longino riporta la storia di un antenato che aveva fatto da giudice in un processo importantissimo in cui, a un certo punto, praticamente, l'esercito romano aveva perso diverse battaglie. C'era un'invasione in atto, c'era qualcuno, la politica doveva trovare qualcuno a cui dare colpa, e la colpa venne affibbiata a queste vestali, perché voi sapete che c'era questo tempio di vesta, c'erano delle, insomma, sacerdotesse, che erano responsabili della sorte di Roma e dovevano tenere sempre acceso il fuoco che c'era dentro questo tempio. Mamma mia! E a un certo punto vengono accusate di aver fatto, insomma, sesso insieme ad alcuni del ceto dei cavalieri, che in quel momento stava prendendo piede e togliendo attenzione, insomma, ai ceti aristocratici. E quindi, a un certo punto, viene montato a un piede un processo farsa dove queste vengono condannate, chiaramente, a essere sotterrate vive, insomma, a una osatroce. E poi viene fuori che questo era stato un processo falso. Infatti, dopo pochi anni, per redimere la città da questo processo, cosa fanno? Sotterrano vivi dei galli senoni poverini che... Così? Dedicandoli alla dea. Però, per esempio, un'altra cosa, qui vedete, c'è disegnato il tempio di Vesta, oissa, che è quel tempio lì. Siccome dentro c'era il fuoco, e bruciava spesso questo tempio, perché chiaramente c'era il fuoco sempre acceso, e il tempio ha assunto varie forme. Per esempio, grazie alla moneta... Prego, vai, che te lo sai... Grazie alle monete, dei diversi periodi, noi sappiamo ricostruire l'evoluzione architettonica, per esempio, dei tempi. Ah, bellissimo! Oppure, alcuni tempi, per esempio, questa moneta, che è di Nerone, prego, qui vedete... Ma prima guardo io perché... Ma è una moneta nera? Sì, cioè, è bronzo, poi è patinata, cioè la patina è una sorta di ossido leggerissimo che gli dà il tempo e dà valore alla moneta. Bellissimo! Se vedi, sull'altro lato c'è una specie di arco. Ok, sì? E... Aspetta, giralo... Dovrebbe essere così, se non erro. Sì, esatto. Ok. Questo è il tempio di Giove, che noi non conosciamo, non sappiamo dov'è Roma, e conosciamo la forma solo grazie a questa immagine. E perché lo raffigura? Tipo una foto, hanno fatto una foto. Esatto. Perché lo raffigura, però? C'è sempre un motivo. Perché, siccome noi sappiamo, mi sembra da Svetonio, che nei momenti di pace il tempio di Giove veniva chiuso. E quindi... Non di Giove, scusami. Il tempio di... Come si chiama? L'ondufacce, insomma. Quello lì. Veniva chiuso. Allora ce lo dicono, di Marte dicono. No. No. Marte dicono. Quello con due facce. Giano. Giano, esatto. Bravissimo. Il tempio di Giano, che era fatto da una porta della prima cerchia muraria. Venivano chiuse le porte in segno di pace. Si faceva una processione, eccetera. E quindi lui lo raffigura per cosa? Per dire che il suo è un periodo di pace, che aveva instaurato un periodo di pace nell'impero. Ti faccio una domanda invece un po' più personale. Sì. Ma te, ti sei documentato sulla storia attraverso le monete che collezionavi? Oppure eri già un appassionato di storia e con le monete hai rinforzato la tua appassionata cultura? Diciamo che mi piaceva la storia in generale, però ecco, tutti questi aspetti nozionistici che poi sono il centro della storia vengono fuori dalle monete perché è impossibile memorizzare, ecco, senza avere una preparazione accademica, tutti questi dettagli. poi io vi parlo di storia a grandi linee ma ci sono dei dettagli di storia economica molto più spiccioli che sarebbero impossibili veramente da affrontare senza la moneta. Per esempio, parlando di storia economica, io ora ho comprato una collezione di un amico che è mancato un paio di anni fa, sì, è una collezione di 450 denari lucchesi dal X al XIII secolo e ora stanno studiando alcuni studiosi insieme al CNR di Pisa perché analizzando il metallo dentro delle monete si capisce la svalutazione per cui non abbiamo dati dell'età ottoniana e enriciana per quel periodo dalle fonti scritte e quindi analizzando perché ora per svalutare una moneta non c'è da leva a metallo perché le monete non hanno valore intrinseco ma qui bisognava agire sul contenuto del metallo e quindi si capisce per esempio dalla moneta quanto costava nel 1110 un pezzo di pane e quanto poteva costare invece nel 1210 oppure nel 1150 quindi sono cose poi interessantissime però un po' piccole per affrontarle in questa sede però ecco molto belli e allora ti faccio un'altra domanda che ti volevo fare dopo ma hai trasversalmente introdotto l'argomento ovvero fregare il popolo perché ti mi hai detto che ok dividiamo l'argento facciamo l'argento poi imprimiamo e gli diamo questo valore questa moneta con questo peso c'è qualcuno anche dei governi che hanno fuso a dell'argento a del materiale prezioso del materiale di merda per togliere di valore senza però farsi scoprire allora intanto questa è una cosa rarissima perché cosa succede l'autorità che fa questo poi si toglie dal mercato ok se te lo fai per 20 anni poi ti buttano fuori dal mercato se non patch se non patch no ma come autorità no no perché l'autorità che ha diritto di battere la moneta a meno che proprio faccia uno una cosa falsa ok cioè diciamo che sono due cose diverse l'imitazione e la falsificazione cioè un discorso è io faccio una moneta falsa e non ho diritto io Magdi o te prendi e fai una moneta falsa questo è un reato che nel medioevo per esempio veniva punito col taglio della mano o col rogo perché strano eh no ma lì poi lì poi ti davano foo per tutto sì però la falsificazione della moneta era uno dei reati più gravi per esempio quando avvenivano delle fiere quasi tutti venivano reammessi anche gli omicidi ma i falsificatori di moneta no perché perché la moneta chiaramente te cosa facevi falsificando la moneta toglievi la credibilità al comune di cui facevi parte poteva essere che un altro comune bandiva la tua moneta te venivi chiuso fuori da tutti i traffici e chiudevi tutto il comune ai traffici esterni oppure rendevi povera la gente che in casa aveva quelle monete quindi erano dei reati gravissimi per esempio Dante ci dice che nel castello di Romena i conti di Romena avevano fatto inventato delle osse con questo maestro Adamo che mandavano a giro a fare questi fiorini falsi e poi lo bruciano infatti a Firenze però invece chi avendone l'autorità fa monete di cattiva lega può esistere per esempio questa è la zecca di Fosdinovo che è un paesino sopra la Garfagnana e queste sono monete per l'Asia e cioè questo è proprio uno scandalo che avviene nel Cinquecento e nel Seicento dove alcune piccole zecche si mettono d'accordo per fabbricare delle monete d'accordo con ufficiali della marina eccetera che attraverso i porti di Livorno di Genova le fanno arrivare in Asia e fanno queste monete però ovviamente le autorità di di Fosdinovo i marchesi di Fosdinovo avevano come simbolo lo spino e invece cosa mettono? mettono i tre gigli no? sei gigli su uno ovescio sono quei tre gigli nella leggenda che è quella cosa che girano intorno mettono delle iscrizioni per prendere per il culo gli spenditori per esempio dicono interspinas cerulea florent cioè fra gli spini nascono gigli oppure dicono in una di queste due per esempio c'è scritto accasia merce querent cioè l'Asia vuole sta merce qui oppure per tutta l'Asia circola ok? cioè proprio per prendere per il culo loro si può dare anche questa roba e poi e questa è proprio una moneta specifica cioè i luigini tanto loro in Asia non sapevano leggere questa roba e quindi queste monete circolavano per un po' poi viene fuori lo scandalo come fa a venire fuori? viene fuori perché per esempio il Gran Duca aveva una zecca a Firenze che batteva moneta per Livorno ok a un certo punto in Asia non accolgono più nemmeno la moneta con il Gran Duca perché poi le tipologie sono immobilizzate come vi dicevo per cui il luigino lo battono nella stessa forma tutte le monete è come se oggi uno stato europeo battesse degli euro che non sono conformi e a un certo punto dalla Cina non accettano più gli euro di nessun paese qualcuno si muove direi in senso succede qualcosa e qui infatti poi vengono tutti bandite queste monete eccetera beh queste quindi monete scherzo praticamente sono monete sono monete vere che hanno circolato sono tante hanno avuto una circolazione importante anche altre zecca le hanno fatte anche in Francia si ecco è così ok questa qui che invece è pesantissima questa è una bellissima moneta perché è una moneta queste sono emissioni sempre imperiali però provinciali cioè delle province delle province dell'impero questa in particolare è di Singara che è insomma una cittadina credo media asiatica o africana insomma però ecco questi due sopra si chiamano Gordiano e tranquillina che erano praticamente lui era l'erede imperatore e diventa imperatore e lei il subabbo invece era come si dice quello che decide tutto nella corte insomma e li fa sposare insomma li mette insieme e poi lui giovanissimo mi sembra 18 anni 17 anni parte per la guerra lei lo vuole seguire muoiono tutti e due in questa guerra terribile che fanno erano la meglio gioventù di Roma insomma una coppia insomma molto ammirata e queste sono emissioni provinciali che per esempio anche queste due sono emissioni provinciali questo è sotto Augusto e quindi qui c'è questo re il re metalce che costia con la moglie Fito Doris che anche questa si conosce solo per questo ritratto e ah minchia solo questo? si Fito Doris esiste solo grazie a queste monete vedi questi due sono re metalce di cui si conosceva il nome non il ritratto ma Fito Doris si conosce solo per l'iscrizione legata al ritratto che tristezza però cioè che è bello però che triste però pensa che questi due per esempio a un certo punto succede una rivolta antiromana i genitori i genitori di lui muoiono nella rivolta Augusto li riaffida il regno di Tracia ha il figlio e però fanno una moneta in cui da una parte ci sono loro e da quell'altra Augusto come dire ora ci protegge ci protegge l'impero ok quindi per vantare il collegamento il collegamento politico ecco con con l'impero e invece un fiorino ce l'hai? allora c'ho un fiorino ma d'argento non d'oro va bene uguale questo qui questo è proprio il primo tipo di fiorino dietro c'è il giglio San Giovanni da un lato infatti San Giovanni non vuole inganni proprio per il titolo della moneta no questa non la so si dice San Giovanni non vuole inganni però non so da cosa deriva perché il titolo della moneta cioè la quantità di oro che c'è dentro la moneta e le falsificazioni di fiorini eccetera San Giovanni non vuole inganni come dire ah ho capito ho capito boh che figata questa proprio non la sapevo si 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 che bello questo è San Giovanni questa è una moneta che viene fuori nel 200 perché diciamo che allora fra l'antichità e il medioevo c'è una rivoluzione la fa Carlo Magno fa la prima moneta europea unica si chiama denaro lui ricrea una moneta nell'argento perché i longobardi usavano solo monete d'oro per le grandi transazioni quindi fa questa moneta unica e crea un sistema di conto che è quello che gli inglesi hanno usato fino all'anni 80 cioè il soldo formato da 12 denari ok e la lira formata da 20 soldi ok o 240 denari immaginate in questo sistema fai conti semplicissimo immagino già mi sono confuso un casino allucinante infatti i commercianti e i cambiavalute era una osa incredibile erano gente preparatissima c'era proprio una corporazione apposta una preparazione incredibile e poi c'erano i giovani che si buttavano in questo lavoro e facevano cambiavalute un po' come oggi ve li fanno come si chiama digital ah i corsi che vendono i corsi si partivano dal nulla e riuscivano e riuscivano a fermarsi poi qualcuno finiva anche male ma insomma cosa facevano loro siccome ogni città aveva una diversa quantità d'argento nelle monete loro dovevano conoscere tutte le monete di tutta Europa ok prendevano grandi capitali compravano al prezzo della moneta per esempio se loro sapevano che in un grosso di Firenze o Fiorino c'era un po' meno di argento che in un grosso di Lucca loro che facevano partivano compravano con i fiorini un carico di Lucca a prezzo e poi rifondevano l'argento e ci rifacevano fiorini che quindi avevano un valore maggiore e poi tutti questi giri ovviamente erano difficilissimi anche perché poi ogni città aveva non solo una moneta diversa ma più monete perché la svalutazione era diversa fra argento rame e oro quindi si svalutavano diversamente per cui nella stessa città non sempre idealmente un grosso valeva 12 denari ma poi questi rapporti variavano sia all'interno delle città che fra città quindi è una cosa da perdi circa quanto costa un fiorino oggi dipende per esempio questo questo qui che è ben conservato e poi ora ti voglio chiedere anche delle condizioni perché sto facendo dei parallelismi con le carte ci sono anche da noi nermint gradi di concentrazione però credo sia diverso fior di conio al massimo allora partono da B bello MB molto bello bello in verità che fa K poi come da noi però MB molto bello poi BB bellissimo splendido e fior di conio con le gradazioni che possono essere Q SPL quindi quasi splendido e poi ora hanno inserito questi grading perché chiaramente per far soldi anche lì hanno fatto delle scatoline di merda che io quando le vedo in quelle cazzo di scatole non le compro io tra l'altro chiedo Venia ma non ti seguivo prima di sì sì ma va benissimo ma va benissimo è incredibile che queste cose le dico io sulle carte le scatole mi fanno e anche chi le fa mi dice mi fanno cazzo anche me allora cazzo le vogliono ce le pagano vada affanculo voi cioè è troppo il bello di una maniera e tenerla a mano non so che cazzo ci faccio va bene insomma comunque a parte questo quindi c'è i grading con i numeri perché il numerino di più numerino tanto le monete oggi il mercato si è modificato la moneta bellissima e fa quotazioni incredibili la moneta rara brutta deve trovare lo specialista perché poi tutti gli ambienti culturalmente è difficile trovare un livello avanzato per cui vanno anche capite poi insomma per esempio io ora ho comprato un è un fiorino ma ghibellino quindi del periodo ghibellino di firenza una moneta rarissima passata in una collezione perché poi le monete possono avere un pedigrino quindi passata in una collezione in questo mondo in questo mondo nostro anche perché è molto più giovane però qui per esempio grandissime collezioni passate alla fine dell'ottocento all'inizio del novecento magari di grandi studiosi che hanno fatto pubblicazioni come Franco Bolli esatto esatto e quindi però su monete che vanno capite anche perché il medioevo poi è particolarmente ostico e te collezioni solo monete che riguardano la storia italiana o comunque europea allora sì diciamo che la mia collezione centrale è monete medievali dalla riforma di Carlo Magno appunto fino al 1350 quindi l'età comunale c'è un motivo? allora c'è un motivo perché quel periodo circoscritto io l'ho studiato lo conosco e poi le monete in ogni periodo cambiando le tecnologie cambiano anche chiaramente i falsi eccetera per cui non è che uno può conoscere tutto il mondo e poi mi appassiona perché il periodo comunale cioè succedono delle osse strafighissime per esempio guarda questa qui c'è una che luccica di brutto dopo ti chiederò che cos'è questa qua eh questa qui è uno stronzo che le vende che che praticamente l'ha lavata perché è una faccia di merda siccome se brillano di più se brillano di più ci sono alcuni che gli garbano capito? le vedono l'innerplateau e le comprano ok ok e a me mi garbano infatti mi hai ingannato eccola ma a te è legittimo uno stronzo che non leziona e però c'aveva una bellissima qualità e quindi però ora dopo te la faccio vedere vai vai prego ma questa che è è un po' bruttina però è una moneta battuta a Berignone te lo sai dove è a Berignone no dove è a Berignone mettevo un bosco dopo Volterra no non sapevo niente no Berignone perché praticamente a Volterra ci sono queste due famiglie che si litigano per fare il vescovo che sono i Belforti e gli Allegretti a un certo punto questo qui che è battuto da questo Belforti no? succede che fanno casino nei castelli perché il vescovo poi c'è tutti sui castelli il vescovo va lì per chiedergli che loro gli diano conferma della loro sudditanza arriva uno lo chiappa a cazzotti questo tale bindo di manno che picchia il vescovo no? lui perché batte moneta lì? per riaffermare il diritto del vescovo su quel castello perché come vi dicevo la moneta è un diritto regale cioè dato dall'imperatore nelle mani del conte o del del potere locale e quindi se io batto moneta in un castello affermo che lì io ho potere ok? ok quindi batte moneta qualche anno dopo lui muore prende il vescovato la famiglia contraria gli allegretti avversaria quindi cosa fanno? gli amici dei berforti vanno nel solito castello rifanno casino il vescovo va lì per per chiedere la pace come esce dalla città li buttano fuori tutti i suoi amici li confiscano i palazzi e lo buttano fuori da Volterra quindi il vescovo comincia ad andare per i castelli loro cominciano a fargli asino nei astelli manda i fratelli a negoziare la pace gli tagliano la testa a tutti madonna ma che ed sì perché facevano in questo modo oggettivamente allora il vescovo successivo nomina quel bindo di manno che aveva picchiato il vescovo predecessore come funzionario della z no vabbè una parzelletta sì ma funzionavano sì alla notte fanno un attacco a Volterra perché loro erano contro questa democrazia avevano instaurato una sorta di dittatura e c'era in una chiesa di Volterra un'urna dove venivano messe queste pallotte per scegliere i politici e loro una notte mentre tutti dormono buttano una scala sulle mura entrano nella chiesa spaccano le stunne gli danno fuori e arrivano via succedeva così nel medioevo quindi sono monete bellissime perché ognuna è legata a questi fatti per esempio ce n'è una con l'agnello perché questa allegretti ha un tratto quando si rende Otto che non ce la può fare chiede di fare la pace a questi bel forti e fa questa moneta con l'agnello e c'è la news day come Cristo ci insegna nel senso facciamo la pace se l'ha fatta lui e vi perdono anche io che sono suo vicario quindi sono monete bellissime che poi mi fa ridere siccome dice uno in chat è che queste monete hanno una storia enorme alcune addirittura hanno più di duemila anni e poi le mostriamo qua su Twitch sopra il tappetino di Evangelion è giusto questa è una cosa veramente stranissima ogni epoca l'interazione fra tra epoche si si attraverso gli oggetti bellissimo e quello che mi dicevi prima eccolo lì si che sono queste tre te le metto tutte e tre in fila vai perché stai senza legge le leggende si dice leggende o leggende ma anche leggende questi hanno i stessi disegni di quella moneta di prima simili queste tre però sono proprio uguali identiche ok che sono una di Ancona una di Arezzo infatti vedi che per esempio qui c'è scritto De Aritio se lo metti più vicino però è tanto difficile perché ci vogliono un po' di conoscenze qui c'è scritto San Donatus però di dietro c'è scritto De Aritio ok sì nella croce si legge De Aritio esatto De Aritio eccolo questo ok poi Ancona questi si chiamano grossi agontani cioè il primo lo fa Ancona e poi viene imitato per esempio Arezzo e Volterra i vescovi rispettivi erano due ubertini questo lo batte Guglielmino Guglielmino era un soggetto allucinante questo vescovo che è capo dei Ghibellini praticamente di tutta Italia riesce a portare Arezzo l'imperatore comanda tutto c'è delle delle attacche allucinanti fa nominare prima il nipote a Ravenna poi il fratello a Volterra poi l'altro nipote a Volterra dei giri allucinanti e mezza famiglia fa gli imprenditori in Romagna l'altra mezza famiglia fanno vescovi quindi il lato istituzionale e battono queste monete nelle città dove hanno interessi commerciali per creare delle leghe monetarie in sostanza ma questo Guglielmino è un personaggio allucinante a 70 anni che per l'epoca era un'età molto avanzata lui fa da capo nella battaglia di Campaldino quella dove partecipa anche Dante morendo ma voi immaginatevi questo vescovo a 70 anni che monta sul cavallo e va in prima linea contro contro il nemico un personaggio allucinante e a Arezzo lui fa quella che si chiamano protosignorie o criptosignorie cioè formalmente è un comune ma poi comanda tutto lui costruisce le mura quindi la gente è contenta gli fa fare un po' quello che gli pare fighissimo e invece c'è un pezzo che non hai ancora nella tua collezione che desideri da tempo ma che per costo o rarità non riesci a trovare però il primo che ti viene in mente allora i primi che mi vengono in mente sono quelli di Voltaire perché per esempio quella moneta che ti dicevo prima con l'agnello è mai passata in un'asta perché poi la collezione di monete a differenza delle collezioni per esempio delle carte non c'è una fine non è che ti puoi costruire tutta la collezione non c'è tutte le carte quindi ti dici il set completo sì esatto non esiste perché qui fai conto intanto si parla di varianti le monete hanno varianti infinite perché ogni volta che si spacca un conio quello nuovo viene rifatto e gli spazi vengono riempiti con delle punteggiature con dei segni ogni volta che cambia lo zecchiere viene messo un segno identificativo ho capito se si spacca arconio di sotto ma non quello di sopra viene cambiato quello di sotto e quello di sopra rimane milioni di variabili esatto e poi anche le monete sono tantissime pensa che solo per la toscana ci sono più di 500 500 varietà di monete per cui però può essere anche un vantaggio perché vabbè lo stesso è un collezionista di carte che completa il set però magari te vuoi la variante che ti piace la variante più rara dato che ce ne so così tante ti scegli quelle che ti piacciono a te in un certo senso no? oppure c'è una sorta di fine ufficiale tra virgolette senti a me mi interessa una completezza storica quindi che nella collezione ci sia un filo partendo dalle monete dall'invenzione della moneta fino a oggi e poi all'interno dei temi che mi interessano per esempio Volterra io faccio tutte le varianti perché ti piace proprio tanto Volterra? perché è la mia azzecca da cui ho cominciato e poi io ho scritto una monografia proprio sulla azzecca di Volterra c'è un libro grande per esempio quella lì di Berignone che vi ho fatto vedere prima che Berignone è un'altra azzecca che ci sono dei documenti con cui il vescovo dice agli azzecchiari che possono battere anche in Berignone ma non eravamo sicuri io per esempio ho trovato in un registro di un cambiavalute perché questi cambiavalute scrivevano portavano questi diari dove annotavano sia le monete che cambiavano ma poi siccome giravano il mondo annotavano le ricette di uscina annotavano tutto e lì si trova anche un giorno questo va a Berignone a cambiare dei grossi per cui siamo certi che esiste la azzecca proprio a Berignone questo si chiama lippo di fede del sega cioè sarebbe per filippo di buona fede del sega sempre del sega e questo è proprio uno di quelli che partono dal nulla si fa dare un po' di soldi poi a un certo punto conosce un po' i mercati trova una che è figliola di gente ricchissima convince il subabbo a fargli sposare quindi gli entra la dote questo spende spande e fa grandi affari a un certo punto però questa fa un processo a Firenze dove proprio dice io mi voglio non lo voglio più perché mi fa schifo mi sembra scrive proprio tipo mi sembra di cacare nel cesso una cosa del genere che poi diventavano anche scurrili e praticamente sfanno il matrimonio e questo deve ridare la dote in disgrazia e poverino finisce malissimo perché gli ultimi anni di vita addirittura stupra una ragazza a Firenze c'è un processo insomma contro questo cambio a valute e finisce gli anni insomma in questa maniera terribile per cui dietro ci sono tutte queste storie che sono il suo diario che è un libro artosi è a Firenze in archivio appunto dentro ci sono storie di ricette cose viaggi e ci sono anche robe sulle monete sulle monete perché appunto loro sapevano per quanto scambiare la tal moneta all'altra si mettevano ragazzi di bottega a cui raramente davano queste informazioni solo quando trovavano proprio l'erede gli dicevano di non dirlo a nessuno chiaramente che era solo per lui e poi c'era tutta la parte alchemica per esempio un'altra lista Pegolotti spiega come si faceva a dividere l'argento perché noi oggi sappiamo le formule chimiche con cui si divide l'argento loro era tutto empirico c'era questa sorta di magia per cui loro ti dicevano come fare il crociolo in cui separare l'argento quanto tempo doveva stare al fuoco che anche lì dici come facevano a calcolare il tempo già boh per esempio ti metti sul crociolo e poi lo tieni il tempo di come fai a scriverlo dicevano il tempo di dieci paternosti per esempio e quelle lì mettevano sul fuoco dicevano dieci paternosti e era passato il tempo quindi sono tutte insomma cose insomma bellissime e poi qualcuno chiedeva la moneta di Pisa la vedo io tra noi ce ne sono due di moneta di Pisa anzi tre faccio vedere una chicca allora questo è un denaro il Pisa oddio sembra accartocciato aspetta però questo te lo devo far vedere a confronto con uno lucchese vedete questo è il denaro di Luca mettilo qua accanto questo è un denaro di Luca ok vedete che nel mezzo c'è quella doppia T specie di doppia T che sta per 8 è un monogramma di 8 perché il diploma imperiale a Luca glielo dà Ottone quindi l'imperatore e loro scrivono Ottone poi questa moneta si evolve arriva a questa che questa è di Enrico quindi il monogramma vedete diventa una specie di H lì nel mezzo e poi a questa perché qui c'è uno svilimento a vari livelli chiaramente poi delle monete da valere X con la svalutazione poi non valgano più niente addirittura da ultimo la gente le buttava via queste monete le chiedevano noia come noi con centesimi eccetera Pisa cosa fa? l'imperatore ha bisogno dei pisani nella guerra contro Genova però lui storicamente hanno già dato come dire il diritto esclusivo ai lucchesi di battere monete quindi i lucchesi si incazzerebbero un bel po' allora l'imperatore gli da a un certo punto diceva vabbè voi battete però io non vi ho detto nulla e loro fanno questi denari dove mettono la F di Federico appunto che è l'imperatore che gli ha detto che possono battere monete però fatta simile all'H non so se si vede quella F lì nel mezzo vedi ok che se la giro sia uguale a quell'H di prima ok doppia T ok e quindi fanno questa falsificazione che all'inizio è una falsificazione e poi l'imperatore gli dice ma sai cosa siccome ormai si sa tutti che battete monete pagatemi le tasse e facciamola finita e quindi iniziano a battere così e il tipo però con la F rimane immobilizzato infatti poi arriva il grosso da 12 denari e c'è la F appunto ah beh questa è più più chiara più eccola non sono tanto bravo con quest'osso insomma infatti intorno imperatore nel mezzo la F di Federico e dall'altro lato Pisa boia poi dopo cosa succede loro fanno la moneta con il grosso nuovo con la madonnina ois vedete con la madonna col bambino De Pisis Santa Maria De Pisis e di qua vedete c'è sempre la F ok anche questa è molto chiara fiorellini e poi dopo invece viene fuori l'aquilino che è proprio la moneta pisana il grosso pisano del medioevo bella questa è bellissima sembra un dollaro che c'hanno l'aquila dietro e dall'altro lato invece sempre la vergine che è la protettrice di Pisa e questa per esempio c'è nella nella disfida fra Dante e Forese che Dante a un certo punto fa una specie di dissing con suo amico loro facevano questi dissing per divertirsi tutti in rima spettavano l'aria certo e a un certo punto a questo Forese ma erano anche un po' volgari gli fa un giorno mi sono alzato no anzi gli dice povera vella donna che parlava della sua moglie che la notte si sente tossire perché star freddo non solo perché Forese è til che è povero e gli ombre le aperte orte e tossisce ma anche perché a letto non è tanto bravo gli fa mancare il caldo in più Forese che non si sa nemmeno chi è la sua mamma e Forese gli risponde a Dante infatti io che la mia mamma non so chi sia ma il tuo babbo io lo so bene perché una notte mentre la mia moglie tossiva mi sono svegliato anche per il freddo sono andato a giro a cercare un po' di soldi perché mi mancano sono andato alle fosse comuni e ci ho trovato un certo alighiero che che mi ha chiesto di liberarlo da un laccio perché il suo babbo essendo un come si dice uno strozzino era stato buttato nelle fosse comuni ok e dice e mi ha detto come gli avete fatto bella vendetta per quel fiorino che gli dovevano perché infatti per quell'aguglino che gli dovevano aquilino perché appunto il babbo doveva dei soldi insomma l'hanno ammazzato e poi è stato buttato nelle fosse comuni quindi l'aquilino come di per quei tre soldi che gli dovevano perché era una moneta che valeva come oggi 100 euro insomma non certo che vale la vita di una persona insomma e per cui si ma si andava a sorpresa anche sul pesante sui familiari morti sì sì esatto che oggi sarebbe in crimine ma per loro era uno scherzo c'era una omicizia talmente come dire vicina che ci si poteva permettere di come dire tirare delle frecciate anche su oggi sarebbe impossibile politicamente corretto questo è buttare al giro tanto poi dopo le ritrovo ok li metto qui e poi ti volevo chiedere una roba ho visto una moneta di Milano però c'è una roba che mi è scappata vabbè questa è l'ambrogino l'ambrogino oggi c'è l'ambrogino d'oro ecco mi sono ricordato ma te lo dico dopo te lo dico dopo è l'ambrogino che anche l'ambrogino era un tipo che poi viene imitato che non vuol dire falsificato e come prima avete visto quei grossi corvescovo in piedi cosa si faceva? se mi interessava entrare in una zona commerciale prendevo la moneta forte no? come oggi se uno stato vuole entrare nella zona euro fa l'euro ok? e qui è uguale si faceva una moneta con gli stessi disegni le stesse scritte più o meno però cambiando mettendo il santo della città per esempio Arezzo mette San Donato nel caso di prima qui Sant'Ambrogio Cremona mette ora mi ricordo vale il santo e dall'altro lato invece che scriverci Mediolanum che se ora trovo il verso ce lo metto sì invece che Mediolanum ci scrivevano chiaramente Cremona oppure la città appunto che produceva la moneta e quelle erano monete legalissime ora per non per per non discriminare nessuno Livorno arriva dopo nasce dopo ce l'ha la sua moneta Livorno? allora Livorno ha una moneta però prodotta a Firenze Livorno è una città bellissima perché Livorno è un esperimento i medici la inventano di sana pianta Livorno perché Livorno era un porto legato al porto di Pisa quindi sotto i pisani poi poi passa i fiorentini attraverso i milanesi insomma c'è tutto un passaggio lì di potere e poi appunto i fiorentini diventa il loro il loro porto importante a un certo punto diventa città porto franco quindi città aperta il disegno dei medici è proprio quello di costruire una città delle genti quindi in cui arrivano da tutto il mondo per esempio mettono delle salvacondotta per gli ebrei che erano già allora insomma in alcune parti discriminati poi levano le tasse a tutti quelli che vanno chi all'estero ha una condanna eccetera se va a Livorno quindi diventa chiaramente una città che è un casino bellissimo però è cambiato però bellissima in cui poi nascono questi quartieri nuovi le mura nuove il porto nuovo e fanno delle delle monete da Firenze apposta per Livorno che sono bellissime ora queste sono delle imitazioni purtroppo perché c'era un'altra scatola dicevo prima e mi è rimasta un cassetta di sicurezza però insomma tanto eccole vedete per esempio questa però prima il porto di Livorno vedi qui sopra c'è proprio il porto di Livorno ora non so se va bella vedete il porto di Livorno con la scritta et patet et favet cioè è aperto è accogliente ok bellissimo e quindi le monete vengono fatte una parte per i commerci interni un'altra parte per i commerci orientali quindi vengono fatte delle monete su imitazione per esempio del longaro tedesco eccetera fatte proprio per Livorno questo per esempio è Cosimo III il penultimo Granduca non preintendete infatti questa scritta ragazzi ovviamente non è quello non è lui è un altro Dux Dux sta per Mag Dux quindi Granduca Magnus Dux certo e Etrurie vedete che c'è scritto Mag Dux Etrurie sesto perché è il sesto Granduca d'Etruria e è l'ultimo il penultimo Medici perché poi il figlio Gian Gastone poverino che gli faranno tutta questa leggenda nera e per 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 levarselo per levarselo di Torno insomma bellissimo anche le sue riproduzioni sono proprio belle sì sì questo è Lucca invece ma enorme se vedi c'è San Martino che non è Fran Martino Campanaro è San Martino che si taglia il mantello per darlo al povero no? dove conoscete forse la storia di San Martino che era un cavaliere romano a un certo punto si converte trova il povero vedi gli dà mezzo mantello e il duomo di Lucca infatti è San Martino Lucca invece che prima di San Martino c'è il volto santo ok vai falla vedete che sei più bravo il volto santo che ha una delle prime rappresentazioni fisionomiche medievali cioè i canoni del medioevo sono un po' come quelli di un ritratto di un modernista non somiglia veramente al volto e nel medioevo uguale si ricalcavano le proprietà come dire morali di quello che si voleva ritrarre quindi per esempio i re erano raffigurati tutti uguali e l'aurona più o meno ecco invece qui si raffigura proprio la reliquia di Lucca che è il volto santo non so che si intende un po' di esteose però a Lucca c'è questa reliquia che è un crocifisso che si trova lì a Lucca antichissimo che secondo la tradizione praticamente Nicodemo che scende Gesù dalla croce era un come si chiamano che lavorano lì uno scultore un carpintiere uno scultore ah uno scultore di legno ok si mette la sera fa questa statua di Gesù sulla croce ok si addormenta vengono gli angeli e fanno Gesù e finiscono il volto e quindi questo volto santo perché il ritratto dagli angeli è uguale a quello sarebbe uguale a quello vero e sulle monete lucchese appunto è raffigurato il volto santo in tutte le altre c'è un santo qui c'è la reliquia proprio allora abbiamo iniziato un po' prima ragazzi circa di 10 minuti un quarto d'ora quindi siamo all'incirca nell'angolo domande se avete domande da lasciare lui è carichissimo ti piace questo momento? si si su Siena e le monete c'è qualche aneddoto interessante lo chiedi da un po' Nico su Siena Siena si Siena è una città che ha delle bellissime monete Siena non c'è il santo raffigurato sopra si tanto era qui era qui ah eccolo qui scusa non c'è il santo raffigurato sopra vabbè Siena è la vergine infatti c'è scritto sopra Civitas Virginis però c'è una bella S perché comunque è comune è Ghibellino e quindi la chiesa gli fa un po' schifo e di conseguenza non stiamo tanto intorno a Santi benché la devozione alla Madonna sia altissima poi nelle monete più tardi comparirà comunque la vergine ci sono delle raffigurazioni bellissime su queste monete in cui sotto c'è la città di Siena e sopra una nuvoletta questa vergine bellissima soprattutto nelle monete granducali pensate che questi non c'avevano le lenti di ingrandimento quindi per fare una cosa del genere certo questa è una tetradrama di Siracusa siamo nel quinto secolo avanti Cristo quarto quinto secolo avanti Cristo sono fra le monete più belle che ci siano e ora al di là del dietro che non è tanto messo bene però pensate che queste robe in due centimetri circa realizzate senza una rente di ingrandimento in realtà Got My Call è una domanda interessante mi collego anche a una cosa che ti volevo chiedere io quindi allungo la sua domanda e secondo me qua ragazzi perché io non amo molto parlare di denaro quando si parla di carte perché ormai si parla prima del prezzo e poi della carta in questo caso dato che la passione forse è meno pop e meno capillare la numismatica rispetto al mondo delle carte collezionabili è giusto anche parlare un po' di prezzi perché così magari vi avvicendate partite con una vostra personale collezione quindi se ne parla infatti chiede banalmente per quanto scontata è un po' fastidiosa si possono sapere un po' di prezzi giusto per capire se è fattibile recuperare qualcosa di quello che si è visto poi anche questa vai vai la teniamo lì infatti io ti chiedo se uno vuole iniziare la cosa veramente bella è che le monete anche antiche non costano tanto bisogna vedere che moneta uno vuole chiaramente dipende molto dalla rarità dalla conservazione pensate che ci sono monete che costano per esempio i denari lucchesi che si sono visti prima si possono comprare anche a 5 euro quindi veramente economici nonostante siano monete di mille anni chiaramente la tipologia più comune è messa peggio poi anche nella collezione dei denari lucchesi ci sono delle monete a 2.000 euro quindi quando uno arriva in fondo per esempio queste sono monete Ugo e Giuditta che sono marchesi della Toscana sono monete rarissime che appunto ci vuole i soldi però si parte da poco le monete Roma per esempio è una collezione bellissima che sono i denari repubblicani in cui ci sono tutte le famiglie tutti i disegni i disegni dei templi collezione bellissima i denari repubblicani stanno intorno alle 100 euro mediamente quindi 100-200 euro quindi collezione accessibilissima le monete magno greche poi o greche che sono costose perché sono più belle ricercate anche internazionalmente però se uno prende nominali piccoli o qualità piccole insomma tutto è accessibile e poi chiaramente le monete come tutto vanno da poco attanto moneta che ho visto battere più alta mi sembra sulle 2 milioni e mezzo di franchi svizzeri più diritti boia insomma però però sono ecco meteori nella collezione medievale toscana per dire io c'ho una quindicina di monete che superano le 10.000 euro no forse una ventina ma insomma su 300 monete per cui è molto sono sono accessibili ecco ok e poi c'era la domanda di no oddio l'ho perso no 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 eccola qua Jacopo 700 una domanda specifica se una persona trova una moneta romana utilizzando un metal detector può ottenerla o è obbligata a consegnarla a un museo per una valutazione allora questo è un tema importantissimo allora il metal detector in Italia ha una normativa molto stringente e è giusto che sia così cioè cos'è cos'è l'archeologia e la stratigrafia voi pensate che ogni fase di vita che avviene in un determinato luogo lascia uno strato ok quindi per esempio oggi gli archeologi che trovano domani un campo in cui siamo vissuti oggi una strada non asfaltata in cui siamo vissuti oggi e trova uno strato di terra ben identificabile quello che c'è dentro serve per datarlo è come sfoglia un libro trovo una moneta insieme a un vaso posso dire che quel vaso è del solito periodo in cui è coniata la moneta quindi posso datare lo strato per questo se io vado lì come uno stronzo col metal detector e levo la moneta è come se vado in una biblioteca in cui c'è un libro in un'unica sola copia e strappo una pagina perché mi garba la porta a casa sono una testa di azzo in sostanza ok quindi la legge lo proibisce categoricamente non si deve andare a scavare col metal detector è vietato soprattutto nell'area archeologica e senza il permesso in ogni caso in Italia c'è anche un altro problema che è che la legge sulla detenzione di beni archeologici è molto lacunosa perché viene dal 1909 c'è una legge in cui dice tutti i beni del sottosuolo sono proprietà dello Stato ok questo per difendere appunto la stratigrafia archeologica qual è il problema che non c'è una lista di beni che prima del 1909 erano già stati tirati fuori quindi come fai te a di se un bene l'hai trovato prima del 1909 o l'hai trovato oggi siccome non vogliono fare un inventario perché politicamente da noia sta cosa perché è un primo passo verso la tassazione di questi beni eccetera quindi cosa succede è tutto in mano a giudici è difficilissimo poi provare la provenienza di questi beni e è per questo che le monete è sempre bene comprare con fattura da un negoziante perché c'è l'inversione dell'onere e la prova cioè il giudice che ti dice te devi provare che questa moneta è in collezione da prima del 1909 che è una cosa impossibile quindi bisogna sempre avere le fatture oppure una dichiarazione di lecita provenienza se si fa una compravendita privata ok però ecco già trovare una moneta sotto terra e mettila in collezione vuol dire che poi ti sequestrano tutto anche quello che è buono mamma mia è mai successo di trovare una moneta con dei residui di sangue di qualche personaggio storico perché domanda specifica no a volte ci sono più che altro magari monete nei musei oppure voi pensate per esempio che le monete che si ritrovano per esempio nel 1348 non hanno orribile perché viene la peste la carestia e la crisi economica crollano la borsa il comune di Firenze fallisce quindi c'erano i titoli di stato la gente aveva comprato i titoli di stato e rimangono Giovanni Villani che è un cronista dice che morivano la gente moriva per strada di fame e di osso si parlava del sangue e quindi c'era la peste quando uno moriva nel lazzeretto lo chiappavano lo sotterravano poi la gente che viaggiava nel medioevo chiaramente gli averi se li cusciva addosso dentro i vestiti oppure insomma la roba era nascosta addosso per cui capita presto oppure in guerra o li sotterravano prima della guerra in un posto nascosto oppure appunto se le portavano addosso per cui capita di trovare monete ora con tracce di sangue evidenti bisogna che siano appunto da stratigrafia oppure roba archeologica invece da noi da noi proprio mi sembra che abitiamo in un altro paese nel mondo del collezionismo di carte c'è la firma l'artwork sulla carta ci sono delle monete firmate da personaggi storici o dove è stata lasciata magari un'incisione particolare addirittura questo dalla Magna Grecia per esempio ci sono incisori importantissimi la zecca di Siracusa è la più importante zecca della Magna Grecia per esempio monete quella moneta che ti dicevo prima da 2 milioni e mezzo era appunto una moneta siracusana perché aveva degli incisori bravissimi e ne conosciamo alcuni come chimone aimone ci sono proprio i nomi incisi sulle monete poi in età moderna viene sempre più fuori anche con lo studio della numismatica perché la numismatica già Petrarca era numismatica nel senso cercava le facce degli imperatori attraverso le monete si faceva portare le pagava però poi è una tradizione anche l'Italia infatti Vittorio Emanuele III è stato il più grande collezionista di monete medievali italiane e ha fatto il corpus non morum italicorum che è il primo catalogo di tutte le monete italiane e l'ha fatto fare infatti c'è una cosa che è un po' da una parte emozionante per un collezionista da italiano madre è affanculo nel piano della guerra lui si occupava di queste monete chiaramente e quando lui lo mandano in esilio la sua unica preoccupazione sono le sue monete infatti lui scrive una lettera bellissima appunto per un collezionista De Gasperi in cui dice lascio lascio agli italiani la mia collezione di monete che è la più grande passione della mia vita che è stata la più grande passione della mia vita è a Palazzo a Roma insomma il Museo Nazionale Romano ah ok ok pensavo a Palazzo tipo quello che farebbe Dario con le carte non è detto non è detto che farò questo no che poi lascia figlioli ricordatevi è che la roba che hanno i musei non è detto che sia più accessibile di quella nelle collezioni pubbliche per esempio ci sono dei sistemi in cui internet dei siti per esempio accesserci e altri in cui io posso vedere tutti i passaggi di monete dall'inizio del novecento a oggi quindi tutte le monete in collezioni private praticamente quasi mentre invece vedere una moneta e posso estrarre le foto gratis pubblicarle anche per motivi di studio vedere i pesi confrontarli invece per esempio la roba dei musei che gran parte negli scantinati non è nemmeno inventariata e anche quella inventariata ti fanno pagare tipo 10 euro al lato per le foto non è che te quindi è molto la collezione di Vittorio Emanuele paradossalmente quando lui ce l'aveva ci sono tutti i carteggi inviava i calchi agli studiosi invece ora vai al museo nazionale romano a chiedigli una foto te la fanno pagare una sassata di soldi purtroppo la cultura esistono monete dei pokemon qui ti posso rispondere io sì molte però quella più famosa è la collezione dei primi 151 pokemon della Meiji con i succhi di frutta giapponese bello sono molto belle tra l'altro bello eh ti ce l'hai? no non ce l'ho ce l'avevo l'ho venduta perché poi mi sono dedicato solo alle carte però sì esistono lo sapete che esistono anche monete da 5 euro 10 euro 20 euro commemorative è sempre cioè la zecca le produce quindi sono monete che formalmente sono emesse dalla zecca e sono monete con un valore nominale e chiaramente vengono vendute a un prezzo molto più alto per cui però ci sono anche d'oro 100 euro anche ci sono ok io avevo monete per collezionisti un amico mi ha regalato la banconota da 0 euro sempre da zecca dello stato da collezione quanto sono davvero rilevanti gli errori di battitura nel valore? eh dipende perché allora nelle monete storiche non sono non sono rilevanti se guardiamo dal 900 in poi ci sono dei casi per esempio 500 lire caravella con le vele al contrario sono un caso famosissimo ma ce ne sono ecco però sono monete che seguono molto anche la moda che seguono motora a parte i casi proprio così come appunto c'è nella numismatica le 500 lire caravella con le vele al contrario nella fellateria i gronchi rosa e così via però poi se usciamo da questi casi che avranno sempre valore poi il resto è un po' insomma più da nerd ancora più da nerd insomma facciamo le ultime due domande ragazzi collezionare monete era una cosa pratica a quel tempo domanda un po' un po' vaga perché ovviamente non possiamo saperlo quale tempo? eh non si sa bene quale tempo intenda forse boh il medioevo? allora nel medioevo non si collezionavano monete però si spendevano queste o meglio Petrarca magari le collezionava monete romane perché uno ricco aveva le vigne con la gente gli ci lavorava gli diceva oh se me la porti se trovate anche monete anterra e me le portate io vedo anche perché dovete pensare che le monete romane circolavano ancora fino al 1700 per le piccole transazioni cioè quando mancava la moneta per esempio nelle cassette della chiesa ci sono ancora le note dei preti che ci trovavano le monete perché poi alla fine era roba d'argento il contadino la trovava anterra nella vigna la domina la buttava nel cestino a messa oppure ci si compravano piccole cose ma del resto momenti di mancanza di moneta queste cose succedevano negli anni 80 io non ero ancora nato però c'erano per esempio i mini assegni oppure i gettoni cioè te andavi a comprare pane e ti facevano il resto con i gettoni del telefono perché mancavano le monete e ti gettoni il telefono sì Petta fa questa domanda interessante a cosa usi per conservare le monete? eh allora la moneta siccome è un bene storico uno deve seguire comunque dei criteri legati anche al restauro e alla conservazione di beni che comunque sono importanti per cui io le tengo sul velluto perché appunto favorisce la reazione e quindi permette la patinatura delle monete si dice cioè la formazione di quella leggera ossidazione che poi dà maggior valore alle monete questi vi per esempio li fa una ditta di Firenze si fa un po' di pubblicità che si chiama Zecchi e sono i migliori che ci sono nel mondo trovati in America lo trovate ovunque e li fa tutti a mano questo è un amico si chiama Alberto col velluto e li fabbrica manualmente poi ci sono delle cassettiere eccetera oppure per portarle a giro a volte uso dei quadernini insomma da tre soldi però poi li levo li tengo sempre nelle bustine di carta generalmente se proprio li devo mettere nelle buste perché poi la plastia ci sa piccia fa un troiaio insomma nel tempo allora se invece ti vogliono seguire sui social dove ti possono trovare? ma io c'ho tipo una pagina si chiama Ubaldo Coin Cabinet che Ubaldo sarebbe il mio pappagallo a volte metto anche foto di lui insomma io vivo con il pappagallo e con le monete quindi bene allora è andata da cercare mi raccomando Ubaldo Coin Cabinet su Instagram c'è Ubaldo Coin Cabinet perfetto grazie di cuore ancora per essere venuto qua per aver fatto la sbatta ti ringrazio però è stata bella hai portato le monete insomma e quindi vi ringraziamo insomma tutte e due perché c'è anche la guardia del corpo nel caso volessi rubare le monete scherzo scherzo ero a 10 anni non lo vedevo stasera siamo andati siamo andati a cena dopo 10 anni capace lui ti ha detto che cercavo il collezione infatti lui mi ha mandato il link avevo già capito visto che si va lì viene a cena a 10 anni non ci si vede bellissimo bello sono contento ha tanto tempo dai ragazzi mi muto un attimo saluto gli ospiti e poi si ripaga ciao a tutti grazie ciao ciao ciao